Avete sentito l'ultima idea di De Laurentiis riguarda Marek Hamsik, tifosi del Napoli impazziti. Una delle ultimissime bandiere del nostro calcio, uno dei calciatori più amati della storia partenopea. Marek Chiaro, come era soprannominato qui a Napoli, ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi. In tantissimi sono cresciuti con i suoi gol, in tantissimi negli anni hanno associato alla cresta il suo nome. Lo storico ex capitano del Napoli, 12 stagioni in azzurro, con due Coppe Italia e una Supercoppa italiana in bacheca, ha dato l'addio al calcio giocato il primo giugno scorso, con la maglia del Napoli in 520 partite e 121 gol. Ma adesso il presidente del Napoli vorrebbe fargliene giocare un'altra. Non ufficiale però, ma una sorta di partita d'addio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti il presidente partenopeo starebbe pensando di organizzare a Castel di Sangro una partita d'addio per Amsic. Lui che nel gennaio 2019 andò via da Napoli silenziosamente. Lui che con una mano sul cuore fece capire ai tifosi che stava partendo in direzione Cina. Lui che invece avrebbe meritato un altro finale. Proprio per questo motivo De Laurentiis dal 28 luglio al 12 agosto potrebbe organizzare una partita d'addio per lui in questo arco di tempo. Infatti ci sarebbero degli spazi liberi in cui organizzare la festa dell'ex capitano. Vi piace quest'idea di De Laurentiis?